Grazie a tutti. 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 Allora, abbiamo un evento stimolo quindi, che può essere positivo, irrilevante oppure minaccia, pericolo. Questa è la valutazione primaria. Vedo lo stimolo, cerco di collocarlo. Aspettiamo che entrino anche gli altri. Allora, stiamo parlando di coping come meccanismo di fronteggiamento dello stress. Il processo collegato è questo. Abbiamo un evento stimolo che dobbiamo classificare come positivo, irrilevante o minaccioso. Pericoloso sfida, insomma. Qualora sia irrilevante, lasciamo stare perché vuol dire che non viene anche l'attivazione susseguente, qualora sia positivo o minaccioso, procediamo alla valutazione delle nostre risorse e delle nostre capacità per fronteggiare la minaccia. A seguito di questa valutazione, qualora queste richieste non siano adeguate, abbiamo la risposta di stress. Qualora siano adeguate, ovviamente fronteggiamo ed esauriamo quindi lo stress. L'Azeros e Falkman distinsero due stili fondamentali di coping che vengono definite risposte. La risposta orientata al problema e la risposta orientata all'emozione. Quindi per risposta orientata al problema intendiamo un comportamento che agisca direttamente sul problema in questione. Quella centrata sull'emozione si rifà invece alla gestione più o meno adeguata della propria emozione relativa al sentimento. L'esempio che faccio sempre io e i miei studenti quando fanno l'esame è tu devi preparare un esame. Come agisci? Cioè sei in stress da esame. Quindi che cosa puoi fare? Puoi metterti a studiare, coping orientato al problema. Automaticamente studiando aumenterà le tue competenze e diminuirà autonomamente l'ansia. Puoi gestire l'emozione, quindi in questo caso l'ansia. Magari con tecniche di rilassamento, semplicemente parlandoti e dicendo ti sto esagerando, aspettiamo un attimo. Comunque vai ad agire sull'emozione e automaticamente verrà meglio anche il processo di studio. Oppure la terza possibilità che è stata introdotta successivamente è il coping orientato all'evitamento. Stasera esco e mi vado a bere una birra anche se domani ho l'esame. Il non volerci proprio pensare. Evitare la situazione. Solitamente questo dei tre è il meccanismo più disfunzionale. Perché appunto defila la persona senza che questa abbia risolto il suo problema. Però non è detto perché a volte in alcune situazioni l'evitamento può essere l'unica cosa da fare. Ovviamente dipende da circostanza a circostanza. Non sempre abbiamo un problema davanti a noi su cui sia possibile agire direttamente. Spesso è più facile agire, pensiamo per esempio a un lutto. Non si può agire sul problema. Quello è, quello rimane. Possiamo agire sulle nostre emozioni. O al contrario, per un determinato periodo, evitare proprio il pensiero, quindi scappare. Però qualora l'evitamento poi diventi ossessivo e prolungato, allora no, non va bene più. Perché comunque le emozioni vanno metabolizzate e vanno sperimentate. Allora, le strategie centrate sul problema appunto si pongono la ricerca di informazioni, la presa di decisione, l'azione diretta sullo stimolo stressante. Gli eventi, in questo caso gli eventi ovviamente devono essere percepiti come modificabili. Dicevamo prima davanti a un lutto. Non possiamo sicuramente agire. Le strategie invece centrate sull'emozione e sull'evitamento fanno sì che si accetti, si cerchi un compromesso, se ci sia un distacco mentale o comportamentale o la negazione stessa del sentimento. E gli eventi, in questo caso, sono percepiti come immodificabili e quindi per forza di cose si vada ad agire su quelle che sono le emozioni collegate. Le strategie di coping centrate sulle emozioni sono più efficaci in situazioni di perdita o danno morale, come dicevo prima, in occasione di un lutto per esempio. Mentre le abilità centrate sul problema risultano più funzionali in caso di situazioni stressanti, attese e previste. Il ruolo della negazione, come dicevo prima, è un po' controverso, perché non necessariamente è negativo, ma il più delle volte sì, perché lascia lì il problema dov'è, senza affrontarlo. Allora, mantiene il distacco, razionalizzare, illudersi. Negazione può essere totale o parziale e ci sono situazioni in cui la risposta di fronteggiamento più adattiva è proprio quella di non fare nulla, come dicevo. Ed è, in questo caso, si estrinseca il valore adattivo, cioè non è possibile fare nulla, l'unica cosa che mi rimane da fare è negare il problema, quindi negare che esista. Negazione è anche una valenza autoprotettiva, favorisce l'esposizione graduale allo stimolo stressante e quindi un migliore assimilamento di quelle che sono le sue caratteristiche e le sue potenzialità. È disadattiva, come dicevo prima, se permane nel tempo. Se si prolunga, diviene la strategia delle lezioni di fronteggiamento, procrastina la soluzione del problema, ma non le elimina, quindi presto o tardi ci si dovrà confrontare comunque. Ci sono diversi modelli associati al coping. La Canadian Mental Health Association individua tre stili di coping come caratteristiche tendenzialmente stabili. Qua non abbiamo parlato di personalità, però ci sarebbe da fare una distinzione tra tratto e stato. Le variabili di tratto sono quelle appunto permanenti e stabili dell'individuo, che caratterizzano l'individuo in qualsiasi situazione e in qualsiasi momento. Quelle di stato invece sono le variabili che appunto intervengono in una specifica situazione, in uno specifico momento, ma non sono le modalità di risposta classiche dell'individuo. Allora, la Canadian Mental Health Association descrive la task-oriented, caratteristico dei soggetti che tendono ad analizzare la situazione ed affrontarla in maniera diretta, l'emotion-oriented, caratteristico dei soggetti che affrontano invece la situazione e le proprie emozioni, e la distraction-oriented è propria di coloro che si immergono nel lavoro, nelle attività, per non pensare alla situazione stressante. Quindi ricalca sostanzialmente quelle che sono. Voi, come vi localizzereste all'interno di queste tre soluzioni? Qual è il vostro stile privilegiato di porvi davanti a un problema? Al di là del caso specifico che può essere diverso, ma tendenzialmente. Non è standard, a seconda della situazione. Ci sono a volte che si tende ad analizzare la situazione, ad affrontarla, a volte invece ci si butta nel lavoro, o a volte ancora si affronta la situazione con le proprie reazioni emotive, a seconda del problema che si presenta, almeno per quanto mi riguarda, poi non so. Però, per esempio, se c'è stato un lutto, tipo, classico tipo, ho cercato di buttarmi nelle situazioni lavorative, cercando appunto di elaborare con molta tranquillità successivamente la mancanza. Oppure, mancanza di lavoro? Ok, non c'è lavoro, tendo ad analizzare la situazione e mi ci butto in quello che riesco a trovare. Faccio affidamento su quello che so fare. Ho un'altra cosa che potrebbe essere emozionale. Ma questo non è lo stesso meccanismo di prima, però. Cioè? Cioè, appunto, prima era un meccanismo orientato all'evitamento, in questo caso orientato al problema, giusto? Sì, ecco, per questo io dico, a seconda del problema che si presenta, poi comunque devi fare affidamento su quelle che sono il problem solving personale, no? Però tendenzialmente, appunto, abbiamo uno stile. Io, per esempio, come vi facevo l'esempio prima, sono la persona che tende ad evitare. Devo preparare la lezione, devo preparare l'esame. Io evito fino all'ultimo momento, poi mi concentro sul problema e quindi lavoro. Però fino a quel punto io evito. Finché posso evitare io evito sempre. E quindi intendevo se riuscite a ritrovarvi in uno stile proprio, in un tratto che vi appartiene e che vi è comune, al di là della situazione in cui non si può fare altrimenti, è quello è. Ma io il primo, allora. Io pure, faccio mille cose pur di non pensare, quando invece c'è una tensione emotiva e non un compito da svolgere, faccio di tutto e di più pur di non pensare. Ancora io non ho capito perché proprio aspetto fino all'ultimo. Poi mi viene veramente l'ansia, ma è proprio me le cerco le situazioni così. E non si riesce a modificarlo, perché me lo dico sempre anch'io. Ogni volta, non la prossima volta, giuro che mi ci metto prima, non ci arrivo così. Stai notte ho dormito un'ora per dire. È sempre così. È fatta così, non c'è verso. È questo che si intende quando si parla di tratti. È un qualcosa di distintivo della persona, che riguarda la personalità, e che difficilmente, se non è impossibile, da cambiare. Brandstatter invece nel 92 distingue il coping in coping assimilativo, quindi strategie di fronteggiamento finalizzate al cambiamento dell'ambiente per adattarlo a se stessi, oppure coping accomodativo, in cui è in realtà il soggetto ad accomodarsi e ad adattarsi a quello che è l'ambiente esterno. In questo caso, preferite cambiare o essere cambiati? Siete passivi o attivi? Posso? Siete attivi nell'accomodarvi? C'è anche da distinguere poi i diversi momenti storici in cui uno ha vissuto. Io prima, per esempio, mi ritrovo nel primo, perché secondo me io dovevo cambiare l'ambiente intorno a me. Poi invece ho notato che non ce la fai, cioè non puoi cambiarlo, perché c'è un tessuto che è già permeato, non è già intrecciato bene, non puoi modificarlo. Quindi io preferisco adattarmi e cambiare in quell'adattamento. Ti stai contraddicendo rispetto a quello che hai detto prima? Eri tu quella che credeva nel cambiamento dal basso? No, no, è che praticamente quello che invece io voglio dire è che non è un atto di forza, cioè tipo io cambio, è che io, come ci piace dire, infatti ci siamo detti questa parola chiave, cioè vorrei adesso, sto cercando di intercettare le cose che già ci sono e aiutare un funzionale cambiamento, ma non vuol dire stravolgerlo, vuol dire dare un contributo, ecco mi sentirei più una che dà un contributo, non che dà un cambiamento totale. Vabbè, è chiaro che non è che si può cambiare il mondo in una persona sola, però tendenzialmente davanti alle situazioni uno o decide di cambiare sì, ho capito, dobbiamo rientrare nello schema, altrimenti poi dopo spaziamo troppo e quella è anche la cosa. Vabbè, cambiare allora. C'è un'altra persona? Chi è? Ah, chi è? Sì, sì, è un'altra cosa che si scelta. Vabbè, sull'argomento di prima, ecco, allora ci sono ovviamente delle cose più grandi di te che non puoi fai fatica a cambiare dei veri e propri sistemi di gestione di una situazione sociale di una realtà sociale che è quella che è più grande di te però ovviamente credo che ci sono dei metodi attraverso i quali tu non vai lì ad opporti a quella situazione ma crei una situazione complanare cioè praticamente tramite degli artifici riesci a superare l'ostacolo non andandoci in maniera diretta ma andandoci in maniera complanare quindi una via di mezzo sostanzialmente una via più che di mezzo non diretta cioè tu non vai a creare lo scontro ma vai a girare cioè superi l'ostacolo tramite dei diversi metodi, dei diversi sistemi cioè non con lo scontro ma che ne so con la concertazione, con l'accomodamento agendo su te stesso quindi agendo su te stesso sì sì anche quando si parla di tratti ovviamente non possiamo pretendere l'assolitezza del comportamento perché essendo tale si modifica da situazione a situazione però solitamente possiamo riscontrare dei tratti che sono caratteristici della nostra persona al di là della situazione specifica in cui capita diversamente il nostro modo di agire si rifà a quei tratti non vorrei essermi spiegata male prima invece Klauer e collaboratori in riferimento a malattie croniche ipotizzano una struttura multidimensionale alla base del coping che è rappresentata dal fuoco dell'attenzione se cioè l'attenzione è diretta alla malattia o ad altro dalla socievolezza se il soggetto è eterodiretto o socialmente isolato dal livello di risposta che descrive se il coping si esprime attraverso un comportamento overt o covert manifesto o non manifesto qui possiamo fare un accenno su quelli che sono i coping in funzione della dimensione temporale quindi se ci sono cinque rapporti quindi il livello del fatto che l'azione avvenga ha fatto accaduto oppure tende a prevenirla quindi si è preventivo quindi agito molto prima che l'evento stressante si verifichi o si possa verificare anticipatorio agito quando l'evento è prossimo a verificarsi dinamico agito mentre l'evento si verifica reattivo subito dopo che l'evento si è verificato oppure residuale agito a distanza di tempo dal verificarsi dell'evento per contrastare gli effetti ovviamente questa non è una modalità in cui ritrovarci sia a priori ma è una modalità di analisi del problema fatto a posteriori quindi come quella persona in quella determinata situazione ha agito l'importante è distinguere le risorse dalle risposte di coping quelle che abbiamo visto sino ad ora sono le risposte ovvero le modalità attraverso cui le persone agiscono però per farlo devono avere anche un bagaglio di risorse che possono essere sia interne che esterne quelle interne appunto sono quelle si rifanno alle caratteristiche di personalità caratteriali temperamentali dell'individuo mentre mentre quelle esterne si rifanno appunto all'ambiente esterno quindi tutta la rete sociale eventuali risorse economiche risorse fisiche, beni materiali la presenza di famiglia o altri aiuti di associazioni, di istituzioni tutto ciò che dall'esterno possa aiutare il cittadino cosa che dicevamo prima a noi quanto meno le istituzioni non fanno parte della nostra rete mi pare di aver capito un po' addetta di tutti all'interno ovviamente dipendono da soggetto a soggetto sono individuali, soggettive e molto riguardano la storia individuale della persona la storia personale di vita allora ovviamente al di là del fatto che le risorse ci siano realmente o meno è importante che le persone pensino di averle perché in questo modo saranno più motivate ad affrontare il problema quindi non è necessario che io abbia realmente una rete di 500 amici accanto però se io penso che ho 500 amici accanto sono più carica sono più sicura di me stessa posso dire vabbè se mi va male ho loro ed è quello stimolo in più che dà modo di affrontare meglio il problema vabbè qua c'è l'elenco di quello che vi dicevo risorse individuali quali lo stato di salute il livello di energia configurazione e tratti di personalità credenze e schemi cognitivi competenze e abilità per quanto riguarda le risorse interne mentre quelle esterne comprendono risorse materiali e socioambientali quindi disponibilità economica sostegno sociale rete, istituzioni e quant'altro il coping quindi la concettualizzazione, valutazione e misurazione del costrutto perché innanzitutto in psicologia è importante capire come la gente agisce innanzitutto perché modalità disfunzionali di risposta possono aggravare lo stress anziché migliorarlo e diminuirlo in secondo luogo perché ci danno un valido strumento per poter capire qual è il meccanismo privilegiato del soggetto e quindi ci dà anche un'informazione in più su quelle che sono le caratteristiche e le modalità di agire del soggetto quindi sappiamo su cosa andare ad agire qualora queste siano disfunzionali o su cosa battere quando c'è un problema da risolvere come aiutarlo come indirizzarlo non esiste un rapporto bionivoco tra le diverse strategie di coping e il risultato in termini di adattamento l'efficacia ai fini dell'adattamento delle diverse strategie di coping dipende dalla natura dell'evento dal momento nel tempo dal contesto e dalle caratteristiche individuali ovviamente non c'è una risposta più giusta di un'altra sia in assoluto sia per il singolo individuo non esistono modalità di gestione dello stress totalmente e completamente disfunzionali o funzionali e il rapporto complesso e circolare sostanzialmente sia un rapporto circolare che è fra stress, strategie di coping ed esito come abbiamo visto nello schema precedente questo l'abbiamo già detto il fatto che comunque l'evitamento per quanto inizialmente possa essere utile dopo va un po' a insomma diventa disfunzionale perché non permette di affrontare il problema la scelta è la strategia di coping situazione specifica tra quelle disponibili nel repertorio del soggetto e funzione della valutazione dell'evento sì ma anche e soprattutto di quelle che sono le nostre caratteristiche individuali studi su gemelli hanno evidenziato relazioni significative tra le strategie di coping e i tratti di personalità come neuroticismo ed estroversione che sono due dei macro fattori che costituiscono insomma i nostri fattori di personalità come dicevo prima è importante ai fini terapeutici anche per impostare il trattamento e gli stili e risorse sono obiettivi dell'intervento e sono prerequisiti per programmare l'intervento passiamo direttamente al COP questo è uno strumento di elezione per quanto riguarda la valutazione dello stile di coping prevalente nelle persone è stato inventato da Carver Scheire e Weitmau nell'89 e la versione italiana è stata curata da SICA e collaboratori nel 97 è un questionario di autovalutazione quindi autoriferito e come tale ha dei limiti relativi alla sincerità o meno della persona e alla capacità di leggersi la somministrazione può essere individuale o collettiva ed è uno strumento molto pratico perché come? dopo infatti ve lo do da compilare e il tempo richiesto per la compilazione appunto è molto breve di 5-10 minuti quindi è uno strumento molto rapido molto veloce di facile somministrazione sono 60 item quindi 60 possibili domande 4 per ciascuna delle 15 scale che compongono il test il questionario valuta 15 diversi tipi di coping di modalità attraverso cui si fronteggia allora le 15 attività ve le spiego perché dopo voglio che ognuno di voi mi dica quale secondo lui o secondo lei è la sua prevalente perché poi il coppolo lo faremo veramente ve lo correggerò e vediamo quanti di voi ci hanno preso allora la prima è l'attività quindi intraprendere un'azione per eliminare lo stress o attutirne gli effetti poi abbiamo la pianificazione quindi riflettere pianificare elaborare strategie per superare il problema soppressione di attività competitive quindi devo preparare la lezione basta non pulisco casa non esco non vedo le amiche non sto al telefono mettere da parte ogni altra attività evitare distrazioni per poter affrontare più efficacemente il problema contenimento non mi butto non mi lancio nell'affrontare il problema aspetto il momento opportuno per il momento lo tengo lì quindi appunto aspettare l'occasione opportuna per affrontare lo stress trattenendosi dall'agire impulsivamente ricerca di informazioni chiedere consigli informazioni assistenza prendere tutte le informazioni relativamente al problema in oggetto ricerca di comprensione quindi qua si rifà alla rete sociale che eventualmente si è accanto la tendenza quindi a ottenere supporto morale rassicurazione e comprensioni lo sfogo emotivo esprimere emozioni dare sfogo ai propri sentimenti reinterpretazione positiva e crescita quando si dice trovare la cosa buona in ogni evento anche in quello peggiore c'è comunque un risvolto positivo impegnarsi per farlo riguarda questa strategia poi abbiamo l'accettazione quindi l'accettazione della situazione e della propria incapacità dedicarsi alla religione quindi cercare aiuto o conforto in un credo religioso umorismo prendersi gioco della situazione riderci e scherzarci sopra poi abbiamo la negazione che è quello che vi dicevo quindi rifiutare completamente l'esistenza del problema fingere che non esista che non esista distacco comportamentale corrisponde a una situazione di helpless ovvero di manca carenza di aiuto si riducono gli sforzi per fronteggiare la situazione problematica si abbandonano i tentativi di risoluzione aspettandosi scarsi risultati dai propri tentativi quindi un partire sconfitto in partenza si sa già che non ce la faccio neanche ci provo distacco mentale è il contrario della soppressione delle attività competitive implica distrarsi sognare ad occhi aperti dormire più a lungo insomma tutto ciò che possa non farci pensare al problema uso di droghi o alcol per tollerare meglio lo stress ma sappiamo tutti che è quella un attimino meno funzionale sicuramente in generale le modalità di coping focalizzate sul problema correlano positivamente con ottimismo autostima resistenza e comportamento di tipo A come vedete il comportamento di tipo A ritorna e vi prometto che ne parleremo mentre si associano negativamente con l'ansia di tratto anche qui esiste l'ansia di stato e l'ansia di tratto quindi l'ansia legata alla specifica situazione o l'ansia costituzionale della persona che in qualsiasi momento in qualsiasi situazione ci fa avere un livello più elevato rispetto alla media anche la scala di reinterpretazione positiva e crescita presenta le stesse analoghe associazioni del coping focalizzato sul problema mentre le scale di negazione e di stacco comportamentale correlano negativamente con ottimismo autostima resistenza tipo A e positivamente con l'ansia di tratto ovviamente chi è che sceglie la negazione come argomento colui che pensa di non avere gli strumenti colui che pensa di non poter fronteggiare lo stress e quindi una persona che probabilmente non ha un'alta autostima non crede molto in se stesso e nei suoi mezzi sicuramente sarà anche pessimista quindi tenderà a vedere sempre tutto nero e tutto contro di lui quindi con un locus of control magari anche esterno il locus of control è praticamente il punto di vista con cui si analizzano le situazioni è colpa mia o è colpa del mondo esterno vengo bocciata all'esame è colpa mia o è colpa del prof allora chi ha scarsa autostima tende a dare sempre la colpa all'esterno mentre chi ha alta autostima è consapevole e riesce a darsi anche le colpe a se stesso cioè riesce a dare giustamente le colpe a segnare le colpe a chi le ha sì perché appunto la scarsa autostima prevede anche un'analisi più accurata e più oggettiva della situazione invece queste queste qua correllano positivamente con l'ansia di tratto quindi chi di tratto è ansioso per evitare l'ansia appunto ricorre alla negazione e al distacco comportamentale nella versione italiana di SICA hanno introdotto anche una cinque scale che raggruppano le precedenti e le hanno raccolte diciamo in supporto sociale quindi che comprende ricerca di informazioni ricerca di comprensioni e sfogo emotivo evitamento quindi umorismo negazione distacco comportamentale distacco mentale uso di droghe o alcol che sono ovviamente un diversivo per non pensarci attitudine positiva quindi caratteristiche personali come contenimento reinterpretazione positiva e accettazione attività quindi attività pianificazione soppressione di attività competitive tutto ciò che riguarda il fare qualcosa e religione che fa categoria a sé anche se io sulla religione non so come la pensate voi ma un po' la metterei anche sull'evitamento nel senso che dire c'è qualcuno che ci pensa al posto mio è un po' come dire il problema non c'è o comunque non è di mia competenza non so voi come la pensate in proposito e là è una questione di fede quindi appunto comunque la signora diceva che giustamente se uno crede il chiedere la forza a Dio può essere un modo di agire giusto ho capito bene in qualche modo chiedendo aiuto è comunque un modo di agire va beh qua sono i punteggi allora il punteggio alle scale aumenta mano a mano che aumentano le abilità correlate ovviamente non è provisto un punteggio totale di abilità né un cut off quindi una soglia oltre cui o sotto cui il soggetto presenta disfunzione o maggiore praticità quindi è un test assolutamente libero che dà solo un'indicazione senza marchiare diciamo tra possibile funzionalità e disfunzionalità particolare attenzione ad ogni modo va rivolta ai punteggi elevate nelle scale di evitamento religione e supporto sociale perché a seconda dei casi l'uso prolungato di tali strategie potrebbe comportare scarso benessere scarso senso di efficacia personale fatalismo e compromissione della qualità della vita proprio perché se non mi aiuta Dio da sola non ce la posso fare o al contrario se non mi aiutano i miei amici se non mi danno comprensione loro se non mi danno l'affetto che merito non ce la posso fare quindi va prestata attenzione senza che questo comunque senza che punteggi alti indichino necessariamente modalità di comportamento inadeguate al contrario invece elevati punteggi alle scale di attitudine positiva orientamento al problema in genere rappresenta una modalità funzionali e adattive cosa ne pensate di questo strumento? vi ha dato nuovi modi nuove possibili strategie da adottare sì allora facciamo così ora su un foglio che vi passerete mi scrivete quello che pensate sia la vostra modalità di risposta prevalente sia relativamente alle 15 sottoscale che poi alle 5 scale principali quelle che cioè raggruppano le altre e vediamo quanto realmente vi conoscete mi ricordo c'è un foglio sono persa puoi metterci eh i 15 no vabbè ora ve le rimetto così le mettete con calma pensateci se il problema è che i risultati vengano resi pubblici ovviamente io magari chi è d'accordo ne darò un paio in pubblico per vedere se ci avete preso poi dopo di che io lo consegno singolarmente tanto è tempo 3 secondi nel caso di cioè non so se si possa veramente schematizzare la tutto quanto perché magari una persona si sente sempre un po' insicura quindi cerca di di usare però i metodi da persona sicura di sé nel senso cioè uno non crede di avere come spiegarmi uno cerca sempre di arrivare preparato comunque non ha la presunzione di dire ah sì allora io saprò fare tutto allora proprio in virtù di questo però cerca di usare le strategie diciamo positive pianificare informarsi siccome prima si diceva che chi usa l'evitamento è una persona diciamo dalla bassa dalla bassa autostima invece io ho notato se posso permettermi che persone che fanno molto abuso dell'evitamento al contrario sono persone che che tendono a presentarsi come persone vincenti tipo ah queste sono fesserie cosa vuoi che sia non sarà magari vista sotto questo punto di vista un'accettazione più che altro quindi una rivalutazione in termini positivi dell'evento ah una bella domanda può darsi vabbè escludiamo chi chi fa uso di droghe e alcol però magari uno può accettarle dire beh non sarà non è la fine del mondo quando è vado faccio ah può darsi se c'è un foglio così allora vi metto queste sono le sotto dove eccole qua memorizzatele vi lascio la slide per un po' così riuscite a memorizzare tra queste ovviamente è chiaro che sostanzialmente una unica non può esistere ok tutti utilizziamo tutte a seconda della situazione però in genere un minimo di orientamento l'abbiamo un po' tutti e possiamo scrivere sì 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 tanto poi le ripesco dalle slide poi se voi avete problemi di privacy e quindi non volete mettere il vostro nome mettete anche semplicemente un simbolo e poi voi stessi lo riconoscerete ma in realtà li vedo solo io che sono tenuta al segreto professionale quindi se mettete i nomi va bene così perché tanto li vedo solo io se voi non volete che siano resi pubblici ovviamente non lo faccio visto che adesso il foglio girerà comunque adesso girerà tu metti il tuo nome beh sì tendenzialmente una tanto è chiaro che a seconda delle situazioni poi si applica l'una l'altra perché appunto non dipende solamente da noi e dalle nostre disposizioni ma anche dall'evento che ci si capita davanti no mi chiedevano solamente una dico sì perché è chiaro che stiamo parlando in linea generale sicuramente a seconda della situazione agiremo diversamente tredici sì ora vi cambio la slide no aspetta queste sono le 15 scale vi ho lasciato la prima slide ora vi passo la seconda così queste sono la seconda cinquina sì 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 mettete il numero ovviamente corrispondente va bene anche il numero non è un problema se avete bisogno che ritorno indietro vado avanti ditemelo sì le prime cinque sono queste i super fattori magari viene più facile se facciamo proviamo a farlo semplicemente su queste cinque va senza farlo sulle quindici se no diventa troppo impegnativo e troppo specifico soprattutto sì no fatelo su questo qui che bene o male raggruppa anche gli altri grazie 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 le penne le avete tutti non le penne chiedevo se ce l'hanno tutti ma lo facciamo fare anche i tecnici ovviamente come abbiamo detto non ci sono valori soglia non c'è nulla a prescindere comunque qualsiasi test non da da solo non è uno strumento di valutazione diagnostica allora vi comincio a distribuire il test scrivetemi ovviamente nome e cognome sopra tanto li guardo solo io poi domani in fase di restituzione chi vorrà commentarlo ve lo do singolarmente poi chi vorrà commentarlo ad alta voce lo faremo insieme diversamente insomma mi chiederete qualcosa in privato grazie grazie è velocissimo come strumento quindi sì sì allora è vero e te non te li sei già fatti tutti ti porto pure la penda ma il foglio per mettere la tua preferenza ti è arrivato? chi ha i fogli con i pronostici? ah ok grazie a tutti Grazie. 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 Il nome l'hai messo? Mettimi il nome, sennò non so a chi restituirlo. Grazie. 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 Scusate, siccome io qui ho sbagliato la casellina, l'ho rimessa, però era sotto. E anche qui. Qual è quella giusta? Era la quarta, però io l'ho messo su. Mi scrivi vicino a canto. Quella è sbagliata. Sì. Sì. Ok. Grazie. 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 Sì. Sì. Quindi... Grazie. Grazie. Sì, perché sennò poi non so chi riconsegnarlo. Grazie. 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 No, l'hanno messo all'interno. Grazie. 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 Bastanza. Non è propriamente... Nome. Eh sì, perché sennò come faccio a sapere che il tuo... Allora, metto la telecamera. Metto la telecamera. Ecco, non si capisce. Ma hai messo sul foglietto quale pensi che sia la tua? Sì, grazie. Quale pensi che tra quelle sia la tua modalità prediletta? Ma posso toglierlo sto microfono? Tanto ormai abbiamo finito sull'una meno un quarto. Grazie. Quale pensi che sia la tua modalità di reazione prediletta? Grazie. Grazie. Il nome e il numero corrispondente è 1, 2, 3, 4 e 5, quei numeri là e basta. Mi ci metti la telecamera, tanto non lo saprei associare. Precisa. Ma tu hai messo la... Sì, sì, l'ho messo, sì. Ma io pure sarò quello il mio. Un po' ripetitivo. Allora ragazzi, visto che ancora qualcuno sta cercando di terminare la compilazione del questionario, prego. Vi do qualche comunicazione di servizio se posso. Tanto la maggior parte hanno finito, ha finito la maggior parte. Giusto? Manca qualcuno. Allora, considerato che questa sera nella sala consigliare, quindi dove siamo noi, c'è la presentazione di un libro. Inizierà alle 5 e mezza. Ci hanno chiesto di terminare un pochetto prima. Quindi siamo riusciti a scendere ad un compromesso, quindi 5 e mezza, 6 meno un quarto massimo dovremmo andare via. Ora, per far sì che riusciamo a finire a quell'ora, se vi va, inizieremo una mezz'oretta prima, quindi 2 e mezza, 3 meno 20, dovremmo essere di nuovo qua. Detto questo, vabbè, vi è piaciuta l'idea del test? Sì, sì. Visto che c'è il segreto, visto che c'è il segreto professionale, ecco, nel caso non riusciste a venire, esattamente. Così. Ma fate in modo, dai, di venire. Scrivetemi la vostra mail, cercherò di mandarveli per email. Vabbè, ma tu ci sarai. Vabbè, sì, sì, sì. Allora, chi deve scrivere l'email sul foglio da lasciare alla dottoressa Agostinelli lo può fare in modo tale che poi chi non dovesse esserci può comunque ricevere i risultati del test. Quindi, Francesca, scusami, se hai qualcosa da aggiungere per chiudere, altrimenti chiudiamo. Ok, allora ci vediamo alle 2 e mezza, buon pranzo a tutti.